buongiorno e ben ritrovati questa è la rassegna stampa occhio ai giornali di fano tv sul canale 17 siamo in diretta come tutte le mattine dal lunedì al sabato alle ore 7.30 poi le repliche le repliche continuano fino alle 8.30 8.30 poi c'è la santa messa e dopo ancora una replica della rassegna stampa l'ultima è alle 13.30 13.30 cui seguirà il telegiornale di nuovo in replica allora questa è la programmazione del di occhio ai giornali adesso andiamo invece a vedere il calendario del giorno oggi si la chiesa ricorda san callisto primo papa parliamo di un papa che visse intorno all'anno 200 200 quando governava a roma l'imperatore lo dico subito caracalla e caracalla che tra l'altro avvia un periodo di relativa tolleranza nei confronti dei cristiani che in precedenza erano invece duramente provati dalle persecuzioni per cui callisto vescovo di roma e papa dal 217 al 222 fece crescere una vigorosa comunità allora il sole è sorto alle 7.21 tramonterà le 18.27 minuti vediamo subito il tempo il tempo per la giornata di oggi eccolo qua cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti nella prima parte della giornata in effetti sta piovendo perché ci segue in diretta e c'è ancora ancora deve sorgere il sole praticamente perché ancora buio precipitazioni deboli sparsi nelle zone interne nella mattinata le temperature sono in aumento i venti da sud per domani sabato 15 ottobre il tempo ancora è perturbato soprattutto al mattino quando ci saranno deboli probabili piogge nelle zone interne nel pomeriggio rovescio temporali sparsi invece lungo la fascia costiera e saranno anche insistenti che però andranno ad esaurirsi nella serata quindi i temporali domani saranno concentrati nel pomeriggio le temperature sono in aumento nei valori minimi stazionari invece in quelli massimi i venti sono di brezza tesa sud occidentali per la giornata di domenica la situazione migliora un po con cielo poco nuvoloso si rasserenerà nel pomeriggio i venti sono di brezza tesa il le temperature sono in diminuzione nei valori minimi poi per quanto riguarda scusate per quanto riguarda le condizioni dei prossimi giorni avremo stabilità per l'inizio della settimana prossima quindi lunedì martedì poi invece il tempo tornerà a peggiorare intorno a mercoledì giovedì della prossima settimana l'addio a Dario Fo anche nella nostra provincia Dario Fo lavorato anche se per breve periodo sia a Fano con il carnevale a pesaro con il roff a urbino con l'università ecco la dedica del resto del carino di pesaro ciao maestro questo è questa è la fotografia con il titolo a tutta a tutta pagina la morte di Dario Fo commuove le tre città in cui il premio nobel aveva appunto lavorato termosifoni spenti proteste a raffiche ritardo dell'ordinanza scatena la rabbia dei pesaresi e urbino è sciopero nelle scuole la decisione del csm invece ora è certo tedeschini sarà il nuovo procuratore entriamo nelle pagine interne la pagina di Fano del carlino eccola qua no all'ospedale unico salviamo quelli dei paesi c'è questa questo incontro che c'è stato ieri questa conferenza stampa che tra l'altro abbiamo trasmesso in diretta su Fano tv ieri pomeriggio intorno alle 16 e 30 ve la riproporremo ancora questa mattina nel corso del pomeriggio e nelle prossime ore insomma per chi non l'avesse seguita una conferenza dei sindaci dell'entroterra sette presenti ma in rappresentanza in realtà sono nove i sindaci che dicono no all'ospedale unico sì invece agli ospedali policentrici quindi mantenendo sostanzialmente quello che è attualmente il sistema sanitario rivisitandolo un po' migliorandolo certamente con il potenziamento dunque il mantenimento di quegli ospedali che sono soprattutto quelli dell'entroterra nuove amministrazioni rifiutano l'ipostesi di un ospedale unico e bocciano chiaruccia e fosso sei ore mentre massimo seri eccolo qua la lista del sindaco seri non si può dire di no a tutto adesso l'altra pagina cofim qualcuno se la ricorderà c'è la liquidazione coatta cofim sono stati distribuiti 5 milioni di euro entro un mese la procedura chiusa dopo 19 anni il gruzzo è da ripartire ma è passato talmente tanto tempo che il curatore di questa società questa è una foto che pubblica qualcuno se la ricorderà siamo praticamente in via siamo vicino al centro alla piazza 20 settembre una foto degli anni 80 la scritta della cofim spiccava sulla porta della grande sede appunto in centro afano dicevo che è passato talmente tanto tempo che il curatore adesso chiede di sapere se quelli che hanno diritto ad avere i soldi indietro che hanno investito in questa società sono ancora in vita e solo in parcelle pensate per gli avvocati oltre 500 mila euro spesi vaccino contro la meningita e psicosi lunghe liste di attesa per la somministrazione le proteste della gente marco monaldi dice siamo arrivati quasi ad un anno di attesa però non dipende da noi il vaccino per il ceppo b non è tra quelli fortemente consigliati e dunque gratuiti essendo a pagamento può essere inserito solo il lunedì e il martedì giorno in cui la cassa dell'asu è aperta cambiamo giornale andiamo a vedere adesso subito il corriere adriatico la pagina di fano l'ex sindaco contesta il consigliere minardi calcolo politico di bassa lega scontro nel partito democratico su fossosegiori fossosegiori l'ex sindaco è giuliano giuliani quello che parla quell'area tra le più protette del paese la logica del sito è a metà strada è un fallimento secondo giuliani politico quindi no assolutamente alla costruzione del nuovo ospedale a fossosegiori sinistra unita condivide la scelta ribadita di chiaruccia contro soluzioni appunto di basso profilo manca eccolo qua l'appoggio dei comuni del territorio schierati cartoceto e piobbico gli altri chiedevano invece un piano b che potrebbe essere quello che appunto hanno lanciato lo vediamo di nuovo dalla conferenza di piage ieri ecco la fronda dei nove sindaci noi contro l'ospedale unico alleanza in vista dell'assemblea di lunedì la proposta di un modello policentrico non accettiamo dicono questi nove sindaci di discutere del sito vogliamo salvare i presidi con un piano alternativo e massimo seri stato appunto inascoltato è arrivato anche una risposta al sindaco di fano seri che chiede chiaruccia come sito per l'ospedale unità i colleghi dell'entroterra non ci interessa parlare di ubicazione di ospedale ma di non far chiudere ci interessa invece di non far chiudere tra gli altri anche l'ospedale di fano e questa è la pagina della valle del cesano torniamo però indietro salta la seduta di vaccinazione gli avvisi per posta sono arrivati in ritardo l'appuntamento con l'asur però sarà riproposto appello per la prevenzione sanitaria la copertura dei minori è del 90 per cento l'obiettivo è di incrementarla per evitare le malattie storiche domani arriva a fano una delegazione di arcuata del tronto paese distrutto dal terremoto previsti momenti pubblici per l'accoglienza e la raccolta dei fondi discriminazioni da cancellare la scuola insegna l'integrazione piano del polo 3 per 18 istituti provinciali laboratori per ragazzi con vari linguaggi e poi dal ancora dalla valle del cesano spray contro l'unificazione imbrattati i cartelli in piazza siamo a marotta teppisti ancora in azione i commercianti invocano le telecamere per i controlli danni chiediamo che il comune intervenga rotte le baccheche e mutilato un monumento questa è la fotografia l'impresa dei vandali notturni in piazza dell'unificazione a marotta i cartelli poi sono stati ripuliti quattro incontri per la cura del territorio invece l'unione li promuove l'unione roveresca con le norme dove spiega anche le norme di polizia rurale a senigallia invece gli sequestrano l'auto senza assicurazione ma lui è morto il decesso risale a oltre sei anni fa un avviso per rintracciare gli eredi cerco l'automobilista multato che ha smarrito il verbale parla il titolare del blue bar il proprietario della vettura era un pensionato senigallese il veicolo era in sosta ad ancona preside di ferro a scuola chi rompe paga computer bruciato giometti il danno è stato volontario e quindi la preside dell'ipsi ha detto adesso cari ragazzi fuori soldi e ripagate il computer all'ovione sequestri anche dai vigili dopo il sopralluogo in regione i forestali acquisiscono documenti negli uffici della polizia municipale a senigallia gli investigatori hanno chiesto i servizi del 3 maggio 2014 e le registrazioni della centrale operativa e infine la cuoca che vendeva gli spinelli sempre da senigallia anzi lì vicino tre castelli la i carabinieri trovano piante di marijuana nel garage è stata arrestata una giovane il blitz dopo aver notato strani movimenti nell'appartamento di tre castelli andiamo a pesaro addio ad un genio carnevale roff piangono dario foo il ricordo di carnaroli che disse dario foo coinvolse tutta la città di fano mentre mariotti dice creò un rapporto senza ombre gli attori bartolucci e di bartolomeo due anni vicino a lui ci hanno cambiato la vita e poi i brividi in classe questi termosifoni che non vanno brividi in classe disagio e proteste al lavoro c'è chi porta la stufetta escalation di segnalazioni il sindaco porta posta il meteo termo spenti fino a novembre addirittura mentre sempre da pesaro cola l'acqua dal soffitto sono state evacuate due classi infiltrazioni alla scuola primaria mascarucci ripetute segnalazioni intervento dei vigili rifugiato politico ma spacciatore di droga in bicicletta sorpreso dai carabinieri sulla statale mentre pedalava con 150 grammi di asci nello zaino fuga subito stoppata con 4000 euro di multa e di vieto di dimora in tutta la provincia ora il pusher è già in libertà lo sport pesaro e provincia pallavolo in particolare bertini ci crede ma è cicero che la squadra di pallavolo pesarese questo sarà l'anno buono il giovane tecnico si confessa il corriere adriatico tra mazzanti il clan di marotta ed happy infine l'africa chiama l'africa chiama è l'associazione fanese che fa tanto del bene nel continente africano vedete in questa fotografia il presidente di africa chiama italo nannini che segue uno dei tanti progetti dell'associazione scuole ambulatori sono le risposte l'associazione fanese è diventata internazionale con tanti progetti in kenia in tanzania e anche in zambia sulla fiera la fiera di campanare a pesaro albergatori in ansia pressing dell'associazione degli albergatori dopo l'incendio del padiglione i dubbi su ginnastica in festa oliva dice vogliamo sapere se sarà sistemato questo padiglione che è andato a fuoco proprio mentre si svolgeva tra l'altro questa importante manifestazione che aveva richiamato in quel periodo tante persone soprattutto genitori a seguito delle bambine da tutta italia vogliamo sapere dicono gli albergatori se quegli spazi verranno sistemati perché sono vitali per tutto l'indotto sotto io non rischio in piazza per la prevenzione andiamo a cartoceto perché c'è questa campagna informativa sui terremoti e anche sulle alluvioni è una campagna nazionale che però nel nostro territorio fa tappa in piazza a Lucrezia direi che possiamo fermarci qui la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 e questa sera invece alle 20.30 vi aspettiamo per il telegiornale occhio alla notizia per tutte le vostre segnalazioni come sempre importantissime e fondamentali per noi 338 4968 250 anche con whatsapp l'augurio è di una buona giornata arrivederci